Settima Domenica del Tempo Ordinario Dal Vangelo secondo Luca, in quel tempo, Gesù disse ai Suoi discepoli, A voi, che ascoltate, io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano. Benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l'altra. A chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Dà a chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro. E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedano prestite ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate, invece, i vostri nemici. Fate del bene, e prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande, e sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate, e non sarete giudicati. Non condannate, e non sarete condannati. Perdonate, e sarete perdonati. Date, e vi sarà dato una misura buona, pigiata, colma e travoccante vi sarà versata nel grembo, Perché, con la misura, con la quale misurate, sarà misurata a voi, in cambio. Commento al Vangelo della Domenica di Don Luigi Maria Epicoco Finché Gesù fa discorsi di bontà, verità, giustizia, credo che tutti ci troviamo d'accordo, Ma la cosa più sconvolgente del messaggio cristiano non è né semplice buonsenso di un uomo, che funzioni innanzitutto nella sua umanità. La cosa che cambia completamente le carte in tavola rispetto a qualunque alta proposta religiosa, sta nella richiesta di rinunciare al meccanismo di azione e reazione, che tutti ci portiamo dentro. Ma a voi, che ascoltate, io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, Benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano. A chi ti percuote sulla guancia, porgi anche l'altra, a chi ti leva il mantello, non rifiutare la tunica. Possiamo anche accettare di comportarci bene con chi si comporta bene. Al massimo possiamo tollerare chi ci fa del male non rispondendo con la stessa moneta. Ma amare i nemici è una richiesta troppo alta, troppo esigente. A leggerlo l'effetto è quello delle esagerazioni retoriche di chi vuole rendere un'idea e usa un'immagine assurda. Ma noi sappiamo bene che Gesù non stava esagerando, ma stava esattamente chiedendo questo ai suoi discepoli. Noi siamo abituati troppo a fare del Vangelo una lettura romantica, simbolica, teorica, astratta. Ma, se cominciassimo, invece, a prendere il Vangelo in parola, ci accorgeremo di come il cristianesimo non può essere un facile bonismo da quattro soldi, bensì un rivoluzionario modo di vivere, amare, scegliere. Siate misericordiosi come misericordioso il Padre vostro. Non giudicate, e non sarete giudicati. Non condannate, e non sarete condannati. Perdonate, e vi sarà perdonato. Date, e vi sarà dato. Una buona misura, pigiata, scossa e traboccante, vi sarà versata nel grembo. Perché, con la misura, con cui misurate, sarà misurato a voi in cambio. Usare misericordia. Smettere di giudicare. Smettere di condannare. Perdonare. Questi verbi, usati da Gesù, non ci lasciano scampo. Il cristianesimo si regge, o crolla, esattamente su ciò. Il resto è un modo per perdere tempo. Oltretamente su ciò. Il resto è un modo per perdere tempo. Il resto è un modo per perdere tempo.